Allora partiamo subito in bomba, la prima cosa da fare è andare su dispositivi, inserisci l'immagine del cd delle guest additions, vi si aprirà questo pop up, voi fate scarica, ora vi si aprirà questa finestra, il problema è uno, a me quando devo scaricare direttamente da VirtualBox mi dà sempre un problema, dopo una tot percentuale, non so mi sembra sul 50, mi dà errore di rete e non scarica niente, non funziona. Voi provate, ma se non dovesse andare semplicemente fate tasto destro su questo link, copia il collegamento, qua chiudete tutto, aprite il browser, incollate il link appena copiato e inizierà il download della ISO. Una volta scaricato andiamo qui sotto su questa iconcina del cd, tasto destro, scegli immagini del disco e scegliamo il nostro file .iso. attendiamo che lo individui qualche secondo ed eccolo qui, qui lasciamo apri conferma esecuzione automatica, ok, questo supporto contiene software progettato eccetera eccetera, esegui e attendiamo che venga eseguito. Chiaramente ci chiederà la password di superutente ed eccolo qui che è già fatto effetto anche se si dice che le modifiche non saranno apportate finché il sistema non verrà riavviato, però come vedete è già fatto effetto, si è già adattato appunto allo schermo. mamma mia cosa lagga, va bene premiamo invio per chiudere questa finestra, pam, a posto. ora riavviamo perché comunque come vedete è un po' si comunque possiamo tranquillamente espellere il disco, via perfetto ed eccoci qui, vbox guest additions installate correttamente e chiaramente senza problemi e anche se si è già 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 Grazie.